Presidente Esospiri oggi per questa bellissima opera qui a Penne, fortemente voluta anche da lei. Beh sì, non ci credeva nessuno, neanche Pezzi e l'amministrazione comunale e neanche la società di calcio, quindi sono felice che invece come sempre abbiamo mantenuto un impegno che ha una doppia importanza. La prima è dare una splendida struttura alla capitale dell'area vestina, cioè a Penne, come meritava. La seconda è quella di lanciare un messaggio a questi ragazzi che erano sugli spalti, che possono continuare a vivere a Penne perché avranno gli stessi diritti, gli stessi servizi, gli stessi spazi che hanno i loro coetani che vivono in realtà più grandi. Continueremo a cogliere gli obiettivi per Penne sia in termini infrastrutturali sulla viabilità che sull'assistenza sanitaria, sul rilancio dell'ospedale. Ci preoccupiamo molto il tema del lavoro su cui invece abbiamo ancora molti nubi da dissipare, però oggi è un giorno di festa e quindi godiamoci questo piccolo momento di festa. Oggi è un sogno che si avvera, in pochi credevamo all'inizio che si potesse realizzare quest'opera, invece abbiamo dimostrato che con la nostra caparbietà e la nostra volontà siamo riusciti nell'impresa. Come è stato detto, questo campo è destinato ed è dedicato soprattutto ai giovani, perché Penne ha bisogno di dare spazio in tutti i settori, nella scuola, nello sport, nel lavoro, ai giovani. Sono stati dei mesi che abbiamo affrontato, certamente non facili, ho detto all'inizio del mio intervento che i sogni bisogna crederci, io ci ho creduto, ma insieme a me ci ha creduto il Presidente Sospiri, ci ha creduto anche l'amministrazione, anche se all'inizio c'era un po' di incredulità da parte anche di colleghi dell'amministrazione. Alla fine, come tutte le cose in cui si crede, siamo riusciti a portare a termine questa opera, in un momento negativo, perché questa opera è stata realizzata in un momento in cui tutto il resto della società, quindi lo sport, il commercio e tante altre cose, erano completamente bloccate. Tutti adesso si ritroveranno questa struttura per poter affrontare qualsiasi tipo di attività, ci si può anche adesso permettere di poter far giocare delle squadre importanti in questa struttura, quindi io sono soddisfatto perché in realtà ho rispettato quello che era la mia promessa, quella di dare a Penne una struttura in erba sintetica.